Penso che le vittime della strada non siano solo coloro che riportano ferite, non siano solo le croci su cui piangono i familiari. Penso che le vittime della strada siano anche quelli che provocano tutto questo, quelli che fanno del male senza volerlo e poi devono conviverci per sempre. Penso che possa succedere a chiunque di commettere uno sbaglio, anche alla persona più buona di questo mondo. Potrebbe succedere a Sofia, a Tresi, a Matteo. Potrebbe succedere a me. Se solo non avessi superato quel camion, se non avessi inviato quel messaggio, se non fossi andata così veloce, non vorrei mai questi se sulla mia pelle. Stando più attenti si può evitare di fare del male, si può evitare di avere questi pesi sulla coscienza? Si possono risparmiare delle vite? Penso di sì. E se